...attacca... sì, vorrebbe un CTS, un comitato tecnico scientifico alternativo, sarà difficile che lo ottenga. Ma ogni volta che parla ci fa ricordare del pericolo che abbiamo scampato, e cioè di quello che ci sarebbe capitato se a gestire questa pandemia complicatissima ci fosse stato lui. Per fortuna ci ha liberati della sua presenza dal governo due stati fa. Il comitato tecnico scientifico parlamentare è una splendida invenzione. Ogni partito nomina il suo esperto, che naturalmente poi dovrà rispondere al partito che lo ha nominato. Sarebbe, se possibile, un aggravamento di quella cacofonia che già sentiamo con virologi ed epidemiologi che se ne dicono di tutti i colori. Ci manca soltanto che questa batracomio-machia di rane e altri animali si trasferisca in Parlamento per dare prova di sé. È una cosa talmente ridicola che poteva averla inventata soltanto lui. Infatti credo che non si farà. Sì, anche io ho l'impressione che non si farà. Sembra un po' il manuale Cencelli che si applica alla RAI da decenni. Ogni partito mette i suoi. C'è una cosa, diciamo, una prassi abbastanza aberrante del nostro paese. Ma comunque... Sarebbe...